E' una nuova tecnologia a servizio della comunità dell'area Vasta 5, di Ascoli, San Benedetto. E' un acceleratore nuovo in grado di realizzare una radioterapia di ancora maggiore precisione e qualità. Tecnologie indispensabili per sostenere quello che è il bisogno di salute nei nostri territori e fatto attraverso una politica di investimenti che si materializza attraverso realizzazioni come queste. Noi contiamo di continuare su questa strada, dopo il primo acceleratore, anche il secondo verrà rinnovato, già finanziato dalla regione e convinti di poter affiancare ai professionisti di grande qualità che operano in queste strutture tecnologie adeguate.